Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo qui con il post partita di Juventus Women contro il Milan, gara valida come finale di Supercoppa Italiana, vinta per la terza volta consecutiva dalla Juventus. Ne parliamo dopo la sigla. Juventus che batte Milan 2 a 1 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, come vi avevo detto nel precedente video, il post partita di Juventus a suolo, sarei dovuto andare allo stadio ma purtroppo, causa quarantena, causa fratello positivo al covid, ho dovuto rinunciare a questa bellissima esperienza, devo dire, molto malvolentieri perché ci tenevo molto a vivere questa esperienza, a vedere questa partita allo stadio, mi sarebbe piaciuto tantissimo, avevo già preso i biglietti appena usciti sul sito della FIGC, mi ero proprio preparato psicologicamente per questa partita però purtroppo dopo aver risultato nelle semifinali con il sassuolo sono dovuto rimanere a casa. Vabbè, questi sono problemi personali, ultimamente troppi problemi personali anche sul canale, quindi non vi annoio più di troppo con la mia vita, ecco diciamo, parliamo della partita. Partita che la Juve gioca in maniera forse sufficiente, non un'ottima partita, non una buonissima partita. Il Milan che molto spesso è stato offensivo nella metà campo della Juve, però alla fine la Juventus, come al solito anche quando gioca queste partite sporche, riesce sempre a prendere il sopravvento e portare a casa il risultato. Quindi ottimo approccio forse da parte della Juve che ci ha creduto esattamente fino alla fine, come è il motto e che ha siglato con Cristiana Girelli la vittoria di questa Supercoppa. Tra l'altro decima Supercoppa della numero 10 della Juve, mica pizze e fighi, dicono a Roma, vincere 10 Supercoppe significa che comunque tu sei ad un livello rispetto agli altri che è imparagonabile. Io credo che Cristiana Girelli sia una delle calciatrici italiane più forti della storia, nel senso della storia italiana Cristiana Girelli è assolutamente una delle calciatrici italiane più forti. Comunque, la partita inizia con la Juventus che prova ad avere un approccio molto offensivo, questo avviene per circa metà del primo tempo, poi il Milan prende in mano le redini del gioco e inizia ad attaccare e la Juve non sfrutta nel momento in cui era padrona del campo le occasioni che si crea e dà la possibilità al Milan di passare in vantaggio alla fine del primo tempo, proprio all'ultimo minuto del primo tempo. Vantaggio del Milan giusto, nel senso che da calcio d'angolo la Juve forse era già negli spogliatoi, Saragama si fa una dormita colossale sulla calciatrice del Milan che poi segna, adesso mi sfugge il nome, però un gran gol del Milan, la calciatrice era assolutamente sola in mezzo all'aria, però Magnan non ha colpe, è incolpevole su questo gol, penso che questo gol se lo porta sulla coscienza Saragama. E si sarebbe portata sulla coscienza anche la Supercoppa se nel secondo tempo la Juve non avesse cambiato approccio e avesse giocato in maniera decisamente migliore. Soprattutto dal momento in cui viene espulsa una calciatrice del Milan, dopo il pareggio della Juve, dove Barbara Bonanzea fa un'azione clamorosa, arriva fino alla fine del campo, fino alla linea di portocampo, butta in mezzo un pallone forte e Valentina Bergamaschi fa autogol, convinta che dovesse spazzare il pallone perché dietro c'era Urtig. Urtig non aveva seguito l'azione, fortunatamente Bergamaschi non se ne è accorta e si è buttato dentro nella propria porta del pallone. Nel secondo tempo dopo il gol della Juve c'è stata subito una reazione del Milan proprio con Bergamaschi che per farsi perdonare voleva riportare in vantaggio il Milan però scaglia il pallone sulla traversa, penso che a momenti la spaccasse la traversa per quanto avesse tirato forte, però per fortuna della Juventus questo non avviene e la partita rimane in parità. L'episodio che cambia la partita, credo l'episodio della partita in generale, è stato l'espulsione di Codina. Espulsione che molti hanno detto non c'era, molti sono rimasti con il dubbio, Codina era già monita, fa un fallo in cui il giallo ci può stare su Arianna Caruso e essenzialmente non dico che non c'era l'espulsione, però se non l'avesse data non mi sarei fatto attaccare. In una partita così importante in un momento chiave della partita in cui le due squadre stavano giocando tutte e due bene, la partita si era fatta bellissima, l'arbitro decide di lasciare il Milan in dieci e da quel momento in poi l'inerzia della partita va tutta a favore della Juve che negli ultimi minuti trova il gol con il colpo di testa di Cristiano Agirelli. Tra l'altro grandissimo gol, grandissimo colpo di testa anche da una distanza abbastanza notevole aggiungerei di Cristiano Agirelli, ma come abbiamo detto prima è una delle calciatrici più forti della storia italiana ragazzi, c'è poco da fare e questi sono i suoi gol, il suo marchio di fabbrica, il colpo di testa. Che altro? Questo era il riassunto della partita, io credo mi dispiace essenzialmente per l'espulsione di Cotina perché sarebbe stata una bellissima partita da vedere fino alla fine 11 contro 11, credo che sarebbe stata molto più combattuta e non so, forse sarebbe stata anche più godibile, avremmo goduto anche di più se la Juve alla fine avesse vinto. Se il fatto che il dubbio ce l'avremo per sempre, i fatti dicono che la Juventus ha vinto la sua terza Supercoppa consecutiva su quattro giocate se non sbaglio, quindi ha perso la prima e poi le ha vinte tutte e tre. Diamo un parere veloce sulle prestazioni delle singole calciatrici, partiamo dal mister Joe Montemurro a cui ho dato 6 perché la prestazione non mi ha convinto al 100%, certo non è stata una partita insufficiente, alla fine è riuscito anche a portare a casa la Coppa e il risultato, quindi un 6 a mister Montemurro mi sembra più che giusto, non è un'insufficienza, non è neanche una partita chissà quanto brillante e quindi ho dato 6. Per Omagnano ho dato 6,5 perché sul gol che fa il Milan è incolpevole e poi fa anche un paio di salvataggi, se non mi sbaglio un altro nel primo tempo su Thomas dove si trovava tu per tu con il portiere, sceglie di calciare sul primo palo ma Per Omagnano gli nega la gioia del gol. Per quanto riguarda la difesa, le due difensori centrali ho dato 5,5 a Gama, che sarebbe stato anche un 5 se alla fine la Juve non avesse vinto perché quel gol è assolutamente colpa sua. Assolutamente colpevole sarà Gama, purtroppo è andata così, non è stata una bellissima partita da parte della calciatrice italiana che comunque prendeva spunto, saliva, spesso portava anche il pallone, si è trovata molte volte anche ridosso dell'area di rigore, però l'abbiamo già detto qualche altra volta, quando fai il difensore puoi giocare anche una partita bellissima, poi fai un errore, la gente ricorderà quella partita con il tuo errore, solo con l'errore. Mentre a Martina Lenzini ho dato 7,5 perché gioca una partita monumentale, una partita bellissima da parte di Martina Lenzini, forse una delle sue migliori stagionali, concede davvero pochissimo al Milan, quando il Milan si trova ad entrare in area di rigore spesso viene in chiusura, poi fa anche un'ottima diagonale nel primo tempo, quando c'era, non ricordo assolutamente quale calciatrice del Milan, lanciata tu per tu con Peromagnan, un'altra calciatrice del Milan in mezzo ad approfittare per il passaggio e trovarsi direttamente dentro la porta, Martina Lenzini fa una diagonale bellissima e preclude la possibilità alla calciatrice sia di passare il pallone in mezzo sia di tirare in porta, quindi credo che un buon 30% di questa supercoppa sia di Martina Lenzini. Per quanto riguarda i terzini ho dato 5,5 a Bottin perché oggi non mi è piaciuta molto, per quanto riguarda la fase difensiva il Milan ha avuto molte occasioni che arrivavano appunto dalla fascia destra, quindi sulla nostra sinistra che doveva coprire Bottin, non è stata assolutamente una partita sufficiente a mio parere per Bottin, ho dato comunque 5,5 perché l'insufficienza non è grave, però credo che Bottin potesse fare di meglio in questa partita. Dall'altra parte invece ho dato 7 all'Undorfs perché gioca una partita stupenda, nonostante l'abbiamo detto più volte lei sia un terzino più di spinta rispetto a Dirinen, fa una fase difensiva eccezionale, non si può recriminare assolutamente niente a Matilde, forse una delle sue migliori partite stagionali anche per lei come per Lenzini, quindi davvero molti complimenti a Lundorfs. Per quanto riguarda il centrocampo invece non mi sono piaciute molto le calciatrici perché al centrocampo il Milan ci ha abbastanza massacrato. I momenti della partita in cui il Milan era padrona del campo erano appunto dovuti ad una superiorità fisica e tecnica nel centrocampo, l'unica a cui ho dato 6,5 è stata Martina Rosucci perché ha recuperato penso almeno 10 palloni in questa partita e quindi è l'unica a cui ho dato la sufficienza, una sufficienza bella piena anche superiore alla sua partita alla sufficienza, mentre a Caruso ho dato 5 perché si mangia praticamente 3 gol, 1 all'inizio della partita e 2 gol se li mangia se non sbaglio sull'1-1 quindi avrebbe potuto portare anche in vantaggio la Juventus, quindi mi dispiace per Arianna Caruso però credo che avrebbe potuto giocare meglio e sicuramente giocherà meglio nelle prossime partite. Altra insufficienza ho dato a Pedersen perché oggi ha sbagliato molto tecnicamente, nel senso che le scelte di passaggio erano giuste però spesso si ritrovava a fare passaggi sbagliati, a perdere palloni in una zona del campo in cui i palloni non dovevano essere persi. Anche l'occasione di cui abbiamo parlato prima, dove Lenzini fa un'ottima diagonale, se non sbaglio nasce da una palla persa da Pedersen. Quindi ho dato 5,5, no ho dato 5 a Pedersen perché la sua partita a mio parere è assolutamente insufficiente. L'altra centrocampista che è entrata è Valentina Cernoia a cui ho dato 6,5 perché nel quarto d'ora in cui gioca rientrava dall'infortunio, ha avuto se non sbaglio anche il Covid e rientra dall'infortunio e si vede che alza praticamente il livello del centrocampo e alza l'asticella. Credo che Cernoia sia una grandissima centrocampista che dovrebbe trovare più spazio con la speranza che trovi anche una migliore forma fisica nella Juventus. Per quanto riguarda l'attacco invece ho dato 5,5 a Lina Urtig che non mi è piaciuta. Spesso quando si è ritrovata con il pallone tra i piedi ha peccato di egoismo. Ricordo però nel primo tempo una bellissima azione in cui si trovava sulla zona defilato del campo sulla sinistra. C'era la possibilità di mettere in mezzo il pallone per Bonanzea però alla fine lei si incaponisce, fa tutto da sola e quasi le riesce un gol spettacolare. Se le fosse riuscito forse saremo qui a parlare di altro però sta di fatto che purtroppo ha perso il pallone in quell'occasione in cui la Juve sarebbe potuta andare in vantaggio. Se non sbaglio eravamo ancora 0-0 oppure avrebbe potuto pareggiare la partita. Per quanto riguarda Bonanzea invece ho dato 7 perché fa una partita stupenda. Il primo gol come abbiamo detto nasce da una sua incursione sulla destra dove fa quello che vuole, mette forte il pallone in mezzo e poi alla fine un po' per fortuna, un po' perché la calciatrice del Milan Bergamaschi si sentiva pressata, il pallone finisce in rete ma credo che sia assolutamente merito di Bonanzea il primo gol della Juve. Girelli invece ho dato 7 e mezzo perché di che cosa stiamo parlando? Fa una bellissima partita sporca diciamo, un'altra partita con cui si mette a servizio della squadra, l'ha fatto spesso in questa stagione, l'ha detto anche in un'intervista con Montemurro, si mette più a disposizione della squadra, magari segna meno, oggi ha segnato comunque, quindi la sua partita è stata stupenda e poi è stata coronata dal gol vittoria di questa Supercoppa arrivato all'89. Quindi davvero complimenti a Cristiana, sta di fatto che la Juve porta a casa la terza Supercoppa per merito suo per il suo gol. Poi sono entrate anche Stascova e se non sbaglio l'ottantaduesimo e Zamanian negli ultimi 30 secondi, credo, quindi non ho dato voto a nessuno delle due. Niente, questo era tutto per quanto riguarda la finale di Supercoppa. Faccio i complimenti assolutamente a tutte le ragazze che hanno portato a casa questo risultato, hanno portato a casa questo trofeo. Mi dispiace non aver potuto festeggiare con voi, mi sarebbe piaciuto tantissimo, sarà per la prossima volta, con la speranza che non sia troppo lontana da Frosinone anche la prossima Supercoppa, così ci vediamo anche l'anno prossimo se dovessimo arrivarci, perché qui non è niente scontato, se dovesse arrivarci la Juve ovviamente. E niente, quindi questo era tutto per quanto riguarda la finale di Supercoppa Juventus-Women-Milan. Un altro trofeo a casa, fino alla fine Forza Juventus-Women.